benvenuti a tutti dalla vostra moira oggi voglio farvi conoscere una delle grandi realtà nel settore delle porte blindate la torterolo e re leader nella produzione di questo settore avete capito proprio bene direttamente dal produttore al consumatore attraverso una rete distributiva di rivenditori in tutta italia la torterolo e re opera da quasi 50 anni nel settore impegnata sempre ad ottenere prodotti di altissima qualità in conformità con le più severe norme europee in materia di isolamento acustico termico e ad alto grado di sicurezza pensate oggi circa l'ottanta per cento dei furti avviene proprio attraverso la porta di ingresso per cui è molto importante sostituirla il grande vantaggio di comprare una porta blindata torterolo e re è la totale personalizzazione ebbene sì potete scegliere il colore il materiale legno alluminio pvc ma anche la forma e le misure al millimetro quindi non vi resta che affidarvi ai consigli del personale qualificato che saprà soddisfare ogni vostra esigenza vorrei ricordarvi che in caso di ristrutturazione dell'immobile la sostituzione della porta blindata rientra nell'agevolazione fiscale del 55 per cento per tutto l'anno 2012 bene qui ci troviamo nel cuore pulsante dell'azienda torterolo e re dove avviene la cosiddetta produzione io mi trovo in compagnia di dennis bonino che è responsabile dell'ufficio clienti in italia ciao dennis allora raccontaci in due parole come avviene la produzione soprattutto quali sono i passaggi importanti allora le commesse vengono caricate in una macchina che vediamo laggiù in fondo nella qualche lavora taglia e piega le lamiere dopo di che dopo di che le scocche vengono piegate chiuse in modo da formare quelle che sono diciamo la cassa della porta e il suo coperchio successivamente vengono inserite tutti i particolari come quali serratura cerniere tutto quello che serve per il funzionamento dell'anno ed ora signore e signori andiamo conoscere meglio nel dettaglio alcuni dei prodotti principi dell'azienda torterolo e re qui abbiamo il modello tr 601 appartiene alla famiglia gold plus classe 4 anti frazione finiture in legno castagno anticato realizzato artigianalmente guardate che meraviglia sempre appartenente alla famiglia gold plus troviamo il modello tr 400 che si differenzia dalla precedente in quanto la serratura azionata da una sola chiave a cilindro profilo europeo con finitura in legno laccato lucido ed inserti in acciaio passiamo ora alla famiglia comfort nei modelli comfort 09 e comfort open famiglia dalle alte caratteristiche prestazionali in materia di acustica termica senza trascurare la sicurezza disponibile nelle versioni ad una anta oppure a due con o senza vetro ideale in contesti di case passive ed ora abbiamo due modelli di elegance la porta con le cerniere a scomparsa ideale nelle abitazioni più moderne più raffinate dove si uniscono sicurezza e design l'ultima nata in casa torterolo e re modello links con serratura elettronica apertura tramite codice esterno e dotata di auto chiusura ideale da inserire in contesti di domotica e sistemi di gestione ingressi ed ora sunlight la porta con il maggior spazio vetro possibile adatta negli ingressi con necessità di passaggio di luce tutte le tipologie vetrarie di torterolo e re rispondono le più recenti normative di sicurezza e di trasmittanza termica previste per gli infissi ed ora la linea portali che nasce per il montaggio dei grandi spazi progettata con un sistema di telaio e falso telaio dedicati proprio per arrivare a misure fino a 280 x 180 cm per chi ha la necessità di proteggere anche le finestre e le porte finestre lo scuro blindato impeccabile sotto il profilo estetico rigorosamente costruito sotto il profilo della sicurezza bene amici siamo giunti al termine quindi non mi resta che rinnovare l'invito visitando il sito torterolo e re punto it potrete trovare tutte le informazioni utili e soprattutto conoscere i punti vendita più vicino a casa vostra e prenotare un preventivo gratuito cari amici che dire torterolo e re la sicurezza con il vostro stile Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori